E stiamo arrivati alla conclusione di questo evento qui a Noto dalla scalinata della Cattedrale Indiretta, Rosario. Eh già, è finito questo grandissimo evento che abbiamo ideato e che abbiamo tanto voluto con tutti i ragazzi. Ecco, i ragazzi di Indirettamente, ricordiamo. Esatto, ne approfitto per ringraziare i miei amici Marco Denaro, Giuseppe Baglieri, Francesco Barone, Katia Pampalone, grazie ancora. Grazie anche agli sponsor che hanno permesso questo evento. I nostri tre sponsor principali, Agriblea, Point Office e Vivaio Spazio Fu. E come abbiamo detto, vi lasciamo con questo quarto e ultimo DJ set. Costantemente richiesto come produttore remixer, la sua musica appare su svariate etichette discografiche di prestigio. Protagonista nei club e nei festival internazionali, la sua musica è in vetta alle classifiche della Deep House Chart. DJ e produttore siciliano, dalla fine degli anni Ottanta, dopo due decenni di pubblicazione di musica sotto diversi pseudonimi, Mauro Di Martino si è fuso nell'alter ego di Musumeci. E quindi, qui stasera, in diretta, Musumeci. Grazie a tutti, buon ballo e buon divertimento. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. 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 a tutti.